Allo, allo, allo guys, allo, big heads, big heads, we are good, thank you, siamo qua per presentare il primo contest di barreling, ragazzi, cos'è questo barreling? Barreling è un nuovo sport estremo che è stato inventato dai ragazzi qua della valle, ora vi spieghiamo la prima disciplina delle tre, che è il barreling enduro, la più estrema, la più pericolosa senza alcun dubbio. Nel barreling enduro ci saranno due partecipanti, uno che guida e l'altro che è all'interno della barella, l'uno si deve fidare al cento per cento dell'altro. Ragazzi per tutte le attività consigliamo scarpe da trekking per cui chiedere la barella perché qua il terreno della Val di Sole scivola molto. Adesso vi spieghiamo la seconda disciplina che è il barreling freestyle. Si vedranno dei gran numeri, numeroni numerosi. Sì, big heads, ah, danke. Cosa sta facendo Don? Si sta preparando per la gara di freestyle. Nella gara, nella competizione di freestyle verranno valutarti non solo la chiusura dei trick, ma anche chiaramente lo stile e il numero di trick fatti nel minuto disponibile. Quindi ragazzi preparatevi che sarà una gara veramente yo, yo. Questa è la terza e l'ultima categoria della quale le barelle vengono pimpate, modificate e fatte più belle possibile. La cosa importante è che siano barelle vecchie, in disuso e dimenticate d'addio. Pimpimpare la barella, pimpala. Allora, pimpa questa barella, falla diventare bella. Gangsta. Che poi si fa in pimpi. Gangsta che non gangsta non si può. Eh, fratello? Una bella informazione ragazzi. Allora, le barelle e le protezioni verranno fornite qua dai ragazzi delle parti di ricambio per la categoria del barelling freestyle e quella del barelling enduro. Quindi per quelle categorie siamo noi che forniamo tutto. Yo! 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 Yo!